Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono iW2FND, Lucio, ed oggi vi voglio parlare delle correnti elettriche che percorrono le linee di trasmissione. Sì, correnti, plurale, perché è comodo pensare che la corrente che percorre una linea di trasmissione sia composta da due componenti, una di modo differenziale ed una di modo comune che, sovrapponendo i loro effetti, si sommano tra loro. In questo modo potremmo studiarle separatamente. Per chi volesse approfondire l'argomento vi lascio il link qui sotto, ma adesso andiamo subito in laboratorio. Iniziamo cercando di capire cosa si intende per corrente differenziale o di modo differenziale. Qui vedete un tratto di linea coassiale collegata a quattro resistori uguali da 50 Ohm che servono da questo lato per la misura della corrente. Infatti la caduta di tensione su questi resistori sarà proporzionale alla corrente in transito. Un resistore è sul centrale mentre l'altro è sulla calza. Dall'altra parte invece i due resistori fungono da carico. Su questo connettore non esce nulla perché è collegato solo sul centrale. Infine da questo lato colleghiamo un generatore di onda sinusoidale da 10 MHz di opportuna ampiezza che manda dentro una sinusoidale sul nostro cavo coassiale. A queste resistenze colleghiamo le sonde dell'oscilloscopio. Sul canale 1, traccia gialla, colleghiamo la sonda differenziale che è scollegata dalla massa dell'oscilloscopio e questa preleva il segnale dalla resistenza posta sul centrale del coassiale. Sul canale 2, traccia blu, colleghiamo invece la sonda dell'oscilloscopio che preleva il segnale dalla resistenza che è posta sulla calza. Lo schema di principio è questo qua. La corrente a 10 MHz entra nel connettore SMA di sinistra, attraversa la prima resistenza, entra nel conduttore centrale, percorre una seconda resistenza, transita sul centrale del connettore SMA di destra, che è scollegato, questo qui è scollegato, attraversa un secondo resistore, percorre la calza del coassiale, passa attraverso l'ultima resistenza e ritorna alla massa del generatore. Non essendoci altre vie da percorrere, la corrente che scorre nella linea è sempre la stessa, ma nel centrale la percorre in un senso e nella calza la percorre nell'altro senso. Ci aspettiamo quindi di vedere sull'oscilloscopio cadute di tensione uguali ma sfasate di 180 gradi. Qui sarà così, mentre qui sarà così. La corrente sinusoidale parte da qui, percorre la linea in questo senso, per poi ritornare da qui su questa resistenza. Su questa resistenza è collegato il canale giallo, mentre su questa resistenza è collegato il canale blu dell'oscilloscopio. Ciò che ci aspettiamo si sta verificando. Sostanzialmente la corrente percorre il centrale, che è questa traccia qui gialla, e la stessa corrente percorre la calza nel senso opposto, che è questa qui azzurra. La leggera differenza è dovuta alla differenza di sensibilità tra la sonda dell'oscilloscopio utilizzata e quella della sonda differenziale, che è digitale. Le correnti che percorrono il centrale in un senso e la calza nell'altro si chiamano correnti di modo differenziale e le indicheremo in futuro con il pedice D. Ora cambiamo il setup e colleghiamo uno short sull'SMA di sinistra, in modo che il connettore centrale dell'SMA sia praticamente a massa. di fatto realizziamo quello schema qui, dove la corrente a 10 MHz, questa qua, del generatore, questa volta entra dal connettore SMA di destra. Si divide poi in due rami, questi due qui, percorre il conduttore centrale e la calza nella stessa direzione e i due flussi di corrente attraversano le due resistenze di misura, quelle di prima, e confluisce sul centrale dell'SMA di sinistra per poi tornare al generatore per altra via, che poi è la via di massa. Dato che le resistenze in serie sul centrale, queste due, e le resistenze in serie sulla calza sono uguali, ci aspettiamo di vedere sull'oscilloscopio cadute di tensione uguali, ma questa volta in fase. Cioè questa la vedremo così e questa qua ci aspettiamo di vederla così. La corrente sinusoidale parte da qui. Si divide in due tronconi tramite queste due resistenze e poi attraversa la linea coassiale nella stessa direzione, sia sulla calza che sul centrale. attraversa le due resistenze di misura e si ricongiunge qui. Poi, qui essendoci un cortocircuito, ritorna al generatore per quest'altra via, non attraverso la linea di prima, ma attraverso un'altra via, che però questa volta è nota, quindi se ne richiude qui. Come prima, su questa resistenza colleghiamo il canale 1, cioè quello giallo, e su quest'altra resistenza colleghiamo il canale 2, blu. Anche in questo caso, ciò che ci aspettiamo si sta verificando. Sostanzialmente, le correnti che percorrono il centrale e la calza sono uguali in ampiezza e danno lo stesso verso, cioè sono in fase. Le correnti che percorrono il centrale e la calza nello stesso senso si chiamano correnti di modo comune, che indicheremo col pedice C. Quindi le correnti che percorrono una linea di trasmissione possono essere pensate come la somma delle correnti di modo differenziale, che hanno versi opposti nei conduttori della linea, e le correnti di modo comune, che invece hanno lo stesso verso nei conduttori di linea. Le correnti I1 e I2 si troveranno con le formule matematiche che vedete qui. Quindi la corrente I1 sarà uguale alla corrente differenziale più la corrente di modo comune, così come la corrente I2 sarà la corrente differenziale, che stavolta è al verso opposto, più la corrente di modo comune. Ovviamente, se scorrono solo le correnti di modo differenziale, le correnti saranno perfettamente bilanciate, cioè nei conduttori della linea scorreranno correnti uguali in modulo, ma opposte in direzione. Se si è in presenza di correnti di modo comune, le correnti di modo differenziale si sbilanceranno in proporzione all'entità della corrente di modo comune, e quindi non saranno più uguali ed opposte nei conduttori della linea. La presenza di correnti di modo comune presuppone però la presenza di un'altra via per il ritorno della corrente di modo comune, che non sempre è così evidente come nel nostro caso, cioè nel caso precedente. Per esempio, se creiamo uno sbilanciamento nel nostro sistema bilanciato, inserendo una resistenza da 50 Ohm nel connettore di destra, avremo creato un percorso alternativo alla corrente, quella che prima scorreva nella cazza, cioè questa qua, e quindi apparirà una corrente di modo comune. Ma vediamo se accade ciò che ci aspettiamo. Inseriamo un carico fittizio da 50 Ohm nel connettore di destra, in modo da creare un percorso alternativo alla corrente e generare uno sbilanciamento nelle correnti. Come si può vedere, le due correnti non sono più uguali. Infatti la corrente differenziale, che ha lo stesso verso di quella di modo comune, è aumentata, mentre la corrente differenziale che ha il verso opposto di quella di modo comune, è diminuita della stessa quantità. Per ridurre lo sbilanciamento, dovremo necessariamente ostacolare la circolazione della corrente di modo comune. Dato che le correnti di modo comune sono sinusoidali, potremmo inserire un choc lungo il percorso alternativo, che è questo qui, vedete. Il choc produrrà un'impedenza induttiva, quindi non dissipativa, lungo questo percorso, ed ostacolerà solo la corrente di modo comune, questa qui, lasciando intatte le correnti di modo differenziale. Inseriamo una ferite a clip di grado 43 e vediamo che il choc così fatto, ostacolando la corrente di modo comune, contribuisce a ribilanciare le correnti che percorrono la linea. Se mettiamo altre clip, ostacoleremo sempre di più la corrente di modo comune e le correnti saranno sempre più bilanciate. Se invece inseriamo le clips in un sistema bilanciato, vedremo che le correnti di modo differenziale non sono ostacolate. Rimettiamo le clips. Come potete vedere, le correnti di modo differenziale non sentono la presenza del choc. Infatti, il flusso magnetico generato dalle due correnti si annulla perché le correnti differenziali sono uguali ed opposte e così anche i flussi magnetici indotti sono uguali e opposti. Bene, anche questo video finisce qui. Spero di aver chiarito il significato di corrente di modo differenziale e di corrente di modo comune. Se il video vi è piaciuto o se vi è stato utile mettete un bel like ed iscrivetevi al canale così non vi perderete i prossimi video. A presto, ciao!